Spero che il cuore non si comanda, ma oltre il cuore ha la testa, oltre il cuore c'è la testa, la determinazione che sono quei sentimenti che mi accompagnano, perché è vero, una donna appassionata, di cuore ma sono una donna completa, pragmatica, una donna del fare, una donna dell'azione, l'abbiamo dimostrato, lo dimostrato in questi anni, lo dimostrano, ma noi lo dimostreremo con le azioni che porteremo avanti, con le azioni che presenteremo alla città, dieci azioni, dieci focus, dieci argomenti che presenteremo alla città, perché noi vogliamo iniziare a parlare di argomenti. Grazie a questo ridisegneremo la città del futuro. Io vorrei invitare in palco Giovanni Cucinello. Un'altra area di intervento è quella dell'ex macello a Piazza Kennedy, dove verrà realizzato un mercato coperto, centro e pino per eccellenze locali, definito con l'acronico di Cielo. Dopo tanti anni per rilanciare il centro storico, diciamo che attraverso questo restyling la nuova destinazione d'uso sarà quella di avere spazi polifunzionali per giovani. A differenza voglio dire dei nostri competitor che tra rimembrare 25 anni, idea di 25 anni fa con la città giardino. Magari voglio dire tra città giardino e campo largo, io avrei per loro altre idee. Dopo i domandi che supererà, c'è Banda, Banda Miletti sulla sostenibilità. ...di due bambini e ho studiato il vissuto molto fuori dalla campagna. Avvieremo il primo servizio di cascerina della città, perché la sostenibilità è il primo passo verso una città vivibile, una città moderna e dobbiamo garantire con questo un futuro migliore ai nostri viviti. Grazie.